Ciao ragazzi, vi volevo far vedere i Pokémon che ho catturato le uova Qui a casa mia, negli intorni, c'è Rattata, due Rattata Mai stati così tanti Pokémon in casa mia? Vai, primo, preso Di solito non lo trovo mai in casa Però dopo vi faccio vedere cosa ho preso Perché se dico io qua, oh mamma mia, perché? Qui non ci sono quasi, ce ne sono due Vabbè, forse scappavo Ecco, o che è? Zubat Mamma mia Perché? No Eh, non la posso fare con una No Ma come? Oh No, dai Ora sì Cavolo Non c'è nessuno Ora molto probabile Comunque questi sono i miei Pokémon Questo Venonat Poi c'è Quelle uova Pidgeot Poi Venonat Racket Paras Squirtle Pidge Zubat Zubat Pidgeotto Kakuna Rattata Zubat Ancora Pidge ancora Guido Chi è Chi è? Ah, sempre l'atto Eh, ma sì Ti pareva Ecco Vai Che livello è? 62 Buono È buono 62 Non male L'unico modo Per farvi Di portare È così Comunque Dove ero Di Masto Ecco Poi Zubat Pidge Abra Paras Questo cosino rosa Che è bellissimissimissimo Poi avresti Un Caterpie Due Miao 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 Due Miao Bellissimo Mamma mia Ehm Per questo video È finito Mettete mi piace Spolliciate E soprattutto Iscrivetevi al canale Bella ragazzi